Eh, non ne fanno più di benzina così. Senti, gli agrumi, il petrolio. Pensa che mio nonno la schiacciava ancora con i piedi. Pensa che oggi conviene molto di più la gamma metano, GPL e Fiat. Ti danno il GPL al prezzo del benzina e quando viaggi spendi la metà. Quale nonno? Quello che hai scivolato. Oggi con Fiat puoi avere un'auto GPL al prezzo della versione benzina, con finanziamento anticipo zero e interessi zero. Vieni a scoprire tutta la gamma GPL e metano. Sento una nota di taleggio. I piedi del povero mondo. Chica Pum Pum